ok volevo fare due considerazioni sul video di giants per quanto riguarda questa famosa cosa che attanaglia un po tutti muove un po tutti ma in generale vedo che farò una premessa prima di cominciare a fare questa cosa su giancarlo che comunque ha fatto una considerazione che è molto azzeccata che la considerazione per quanto riguarda certi modi di allenarsi che sono proficui nonostante non seguano le linee di alcuni saccenti del cazzo che scrivono anche sotto il mio canale allora per quanto riguarda le persone che hanno intenzione di come posso dire rompermi i coglioni che non lo facciano semplicemente per un motivo particolare perché finita la faida con domingo a parte qualche testa di cacchio da prendere per il culo sulla quale ci divertiamo su instagram perché vedo che la comunicazione tra instagram e youtube non viene proprio cagata non so per quale motivo certi contenuti sono più divertenti più fruibili e qui ci sono tanti di quei contenuti tecnici penso di essere uno dei pochi per cui lasciando perdere gli autodidatta io sono stato un autodidatta però l'autodidatta arriva dagli anni che furono dove c'era il bodybuilding in sé per sé oggi il bodybuilding è mischiato a questa nuova religione che il pl avrà tutto il suo fascino tutto quello che volete voi e io ho una visione delle cose non voglio cominciare a dire lui è dopato non ce ne frega un cazzo tanto comunque non cambierà mai niente dovrete imparare a guardare solamente i cazzi vostri mentre un altro fa i cazzi suoi ma io non sono matto non puoi farci niente tanto comunque oggi c'è devo fare grano e come faccio il grano facendo tutto quello che mi porta visualizzazioni mi porta chiaramente le persone che c'è che non hanno mai preso un peso in mano i vari ma non facciamo più i nomi non possono spiegarvi neanche la pratica se io vi dico come accendere una macchina e mettere la prima la seconda la terza vi spiego la teoria meccanica su come come io faccio per guidare la prima persona che sa tutto su questa cosa che ha letto il manuale dello scoppio del motor a scoppio del combustibile fossile e della grandissima e di tutto il resto non accenderà non partirà mai ma per fare andare la macchina tutta questa teoria che sapeva in realtà non serve un cazzo i vari personaggi che poi hanno preso dopo che hanno provato sensitivamente le proprie cose trovano le parole nei libri cercando poi di essere più completi questo è per quanto riguarda sono uno che studio per quanto riguarda questo canale questo canale ha un determinato pubblico di persone che hanno capito determinate cose che lo stanno provando a casa il coaching online è diventato una cosa veramente stratosferica probabilmente perché qualcuno piano piano si accorge arrivando da altri guru che tempo perso danaro perso lesioni tutto quello che vuoi non è roba per loro poi ci sono gli autodidatta ci sono quelli che sanno pensano di avere capito qualche cosa ma rimanano sempre in un certo stato non c'è un cazzo da fare ne ho conosciuti da quando ho aperto questo canale migliaia e questo canale parla per per voi di conseguenza se la querela è questo che è arrivato per quell'altro che vi vende una cagata che non c'è vuol dire che ho avuto 100 milioni di chiamate e tante persone che mi contattano su instagram perché io su instagram come dice qualcuno di voi adesso la finisco con la rottura di palle rispondo più o meno a tutti nonostante siate veramente tanti è il canale più piccolo mai visto con la potenza più grande mai vista e questa l'ha detto una persona che ha tanti di quei follower che da poterli dividere per tante persone l'esperienza c'è i contenuti tecnici ce n'è a manetta a montagne chi ha voglia di rompere i coglioni vada da un'altra palla non abbiamo bisogno io non ho bisogno ci siamo a me di mandare a cagare una persona bloccarlo poi mi tocca cancellare tutta una serie di commenti che non è giusto ma io voglio dire la mia tu puoi dire la tua senza rompere le palle e senza avere c'è la cognizione di causa sapere quello che fai per cui quando tu mi fai vedere anche qualcosa che funziona non un grassone che mangia 50.000 calorie e l'unica sua versione di mascolinità o da adesso anche di femminilità e staccare da terra qualche cosa non è bodybuilding può essere usato può essere per fare altre cose non è bodybuilding ok punto basta sono le sette e mezza oggi si partirà per fare qualche qualche adesso parto è qualche contenuto giù vi farò vedere adesso comincerò nonostante ci siano tanti video su gaggi calisthenic brain probabilmente non l'avete neanche visti ma perché non c'è la comunicazione tra instagram e il discorso di altri canali e io sbaglio perché non porto quegli stessi contenuti che loro mettono per fare le loro visualizzazioni magari sono uno che porta quanto pare quanto dicono me ne frega una mazza dovrei portare anche sul mio canale contenuti che rilascio anche gli altri e da dove poi sarà fatto così per il wellness ho delle idee assolutamente fantastiche vi farò vedere ancora piccola cazzata per quanto riguarda prima che io vado a parlare di questo video di abbiate pazienza perché la concentrazione per gli uomini i lemuri hanno bisogno di schippare ma andare avanti se no a me sai che mene unca allora il fatto di allenarsi natural incedimento e lo parliamo un'altra volta questo discorso tecnico per la seconda volta nella mia vita o la terza l'ho provato no questa è la verso secondo ho cominciato a allenarmi ho cominciato ad allenarmi io sono assolutamente fuori da qualsiasi cosa per il momento e per molto tempo e di conseguenza cosa succede succede che quando il tuo corpo adesso faccio discorso molto veloce voglio stare dentro i dieci minuti perché voi avete tutti quanti le altre persone che fanno contenuti da quattro minuti una volta alla settimana e vi fanno vedere tutte le cagate del mondo poi venite a commentare stronzate sotto il mio e lo dico non per gli spartanacci e per la gente che comunque parla bene di me in generale di tutti quelli che arrivano da altre tribune e hanno voglia tornando da un discorso prima faccio il discorso allora di gian scoccio perché se no poi mi dite parti per la tangente diventa un casino la vecchiaia che cazzo ti devo dire video di gian scoccio parla di branch warren vedo delle esecuzioni di cui ho parlato ma per cazzarola tre anni poi ci sono stati i mentecatti la tecnica si adatta al peso e tutto il resto non è così la tecnica si è adatto al peso mi mi sto riferendo ai vari teo trainer poi c'è anal cacca che dice la tecnica è adatto al peso questi contenuti allegri dove non si insegna un cazzo ma si insegna scofanare al massimo poi vi faccio vedere io magari un video su qualche pasto per chi ha tempo di cucinare ed è quello uno dei segreti la fonte di proteine più nobile possibile la giusta quantità di carboidrati che non serve a diventare delle palle di merda e neanche ad arrivare a definizioni che non possono essere sostenute a livello natura e una quantità di pasti che sia più frequente per fare una sorta di termogenia anche se in realtà il discorso è molto complesso comunque generale chietogenica quando poi sei bello pianotto e i risultati si sono visti su alcuni di voi non ho mai messo una trasformazione non ho messo una sola è stato fatto un lavoro tremendo sul ragazzo che aveva un gran peso ed è riuscito a tenere le masse masse toste togliendo ad addosso una valanga di chiedi il cedimento è la chiave non ci sono cazzi da fare cedimento con peso per ripetizioni nel tempo non lo finirò mai di dirlo il giants ci fa vedere l'abbiamo chiamato panettiere affettuosamente il giants fa un discorso che quando cevo cevo dai a cesare quello che è da cesare sprench warren ci fa vedere in questo video il fatto che fa una lat machine che non è come alcuni fissati paraculi laurea dipendente e in bictus progettani pensino per cui la fottuta esecuzione perfetta l'esecuzione perfetta è una cosa fantastica in tutte le cose c'è zero e max quando tu nella sulla radio metti max di solito sfarfalla non senti un cazzo ti fanno male le orecchie il suono non è pulito io faccio delle analogie perché certe persone non capiscono e poi perché mi piace farle sì oggi sono un po velenoso a zero chiaramente non senti un cazzo poi devi mettere l'equalizzatore te la sistemi per i tuoi gusti e quella è un'altra cosa molto importante sto sempre facendo analogie sull'allenamento quando una persona come branch che ha una muscolatura bombe ma non ce ne frega un cazzo lo sapete come funziona quando non volete capire chi o cosa fa e non fa però a questo risultato è per pura negazione o ignoranza e io sinceramente ma lui è quello ma non me ne frega un cazzo perché comunque si perde di vista l'obiettivo si annidano su questo canale persone che hanno voglia di giocare parte su istag e credo che sono molto più intelligenti il fatto di giocare prendere per il culo con le somiglianze vi siete persi delle belle storie le mie si cancellano ogni 24 ore non faccio non sono capace neanche di fare storie cose metterle fare insomma registrarle sono uno che ancora su certe cose si muove col telefonino ma sto cercando di evolver mi il fatto che una persona usi una tecnica corretta e particolare come fa vedere nel video giants che adesso lo prendo lo tolgo dal discorso perché nel real dice io quando mi sono allenato alla branch war perché ho cominciato a allenarmi guardando lui ho fatto questo tipo di allenamento e mi sono fatto male però dice una cosa che è assolutamente di fondamentale importanza e quale sarebbe ci vuole l'esperienza per fare una determinate cose e branch non è un ragazzino sa come gestire un peso sa come fare una determinata esecuzione che è molto citata usando il doppio il triplo del carico che usano altre persone la muscolatura di branch è granitica densa forte ed è anche una certa età per cui insomma non è più neanche un novizio per quelli che continuano a dire ma l'esecuzione l'esecuzione mi hanno fatto due così soprattutto sul video di certe persone che poi diciamo lasciamo stare non facciamo più polemici il fatto di dover usare una fantastica esecuzione con anche un se vogliamo un cedimento ha un effetto x per chi fa questo sport da tanti anni di conseguenza non è un ragazzino powerliptico magna tutto arriva vicino al buffer giraci intorno fai il giro dell'aiuola e poi torna indietro no col cedimento ci devi andare dentro volevo raccontarvi una storia questa settimana ho fatto per aver voto una settimana in palestra e di conseguenza ho tirato come si tirava nonostante i carichi chiaramente non siano uguali come quando si è sotto determinate preparazioni il cervello cercava di chiedere quel tipo di sfinimento e il fisico ha cercato di darglielo nel senso che lo sfinimento cedimento super ultra massacrante c'è stato con gli eventuali pesi che cambiano non sono più al cento per cento sono l'ottanta quando sei fortunato o anche 70 e di conseguenza fino a ieri ho avuto un paio di giorni di febbre dolori lancinanti dovunque perché lo stress la distruzione e tutto il resto non è più aiutata da qualche cosa che aiuta a fare in modo che sovrallenamento stanchezza non dormi cazzi e mazzi danni ai muscoli creati dall'allenamento non vengano riparati nel tempo con cui venivano riparati e il cervello se lo ricorda questa è la macchina che manda avanti vi regola il sonno vi regola l'umore vi regola tutto quel cazzo che fate lo stress è quello che vi demolisce ma io non posso non riesce ho capito è un mondo fatto così o combatti o chi si estende dalla lotta è un figlio di mignota tante volte ci vuole una parola tante volte ci vuole un sostegno tante volte ci vuole fortuna culo ora il fatto di vedere questa esecuzione di branch war io salto da un capo all'altro perché penso di parlare con persone che siano con un cervello non tiktokiano di conseguenza questa esecuzione sembra lanciata per quanto riguarda i pesi ma in realtà non lo è per quale motivo se faccio un'esecuzione corretta per quanto riguarda quell'esercizio che è una macchina ma è movimento libero io dico si può tranquillamente rimanere fermi nella stessa posizione per carità lo distruggo per quanto riguarda i ragazzini ma quando io arrivo nella posizione in cui arriva la lat machine ma torno indietro se sono uno furbo se ho l'esperienza arrivo allungare chiaramente quando hai un peso che è enorme devi un attimino come posso dire non lanciare perché quei pesi che fa branch sono allucinanti difatti si vede assolutamente i risultati ma funziona su di lui non dite cazzate non dite cazzate sono tutti uguali lui più vecchio degli altri una genetica anche sfortunata tutto il cazzo che volete sfortunata rispetto a quelli degli anni 90 perché non ha una certa linea non è un levrone e comunque sia se vedete tutti i video dei più grossi hanno un'esecuzione che quando deve andare a usare pesoni soprattutto i forti i densi e tutto il resto non fanno opla 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 assolutamente nessun culturista serio lo fa chiaramente fa comodo a tante persone dire faccio un'esecuzione corretta così tu sei obbligato a usare meno peso spero di essere stato chiaro perché comunque sia sono cose che faccio da tot anni ci vuole un'esecuzione corretta soprattutto quando prendere le fibre rosse quando sei stanco quando hai un pesettino in mano e non devi buttare niente la forza che fa branch per avere una muscolatura che è una delle più dense non delle più grosse delle più dense che abbia mai visto dense vuol dire come posso dire densa vuol dire forte bella da vedere e la durezza tante cose e bodybuilding e estetica poi gente come lui che lavora su questi a usa carichi eccezionali ripeto che le coaching online si chiamino su instagram la quale io sulla quale io rispondo molto più attivamente perché qui non rispondo vedo guardo ma non non so non so come dire non per per discorrere per parlare meglio si possono fare più cose anche messaggio vocale per me molto migliore a me piace parlare più che scrivere un'ora e mezza perché io non faccio questo perché sarebbe meglio non fare quello perché perché altrimenti poi alla fine si danno anche le perle a certi porci alla quale io non voglio rispondere per quanto riguarda cose che stanno arrivando preparazioni tutto il resto sto cercando di fare di fare un qualche cosa per vedere dove si arriva con una memoria muscolare che arriva da qualche altra parte con un po di tranquillità e fino adesso non ho avuto perché ho cambiato casa per cui anche quello che mi viene a scrivere devi morire per di solo tempo poi se vuoi mi fai un trillo facciamo due chiacchiere dai agli spartani mi raccomando forza tanta risposta dai ragazzini questo era un video più che altro più che tecnico anche per voler parlare con voi per la community se guardate bene la lotta con domingo è finita perché neanche tanto il suo diciamo schiera che era bella tosta una volta si chiamavano in determinate maniere belle toste ma è stato domingo stesso a chiudere il video con uno dei più bei messaggi che si siano mai sentiti chiaramente questa cosa l'abbiamo voluta insieme vi saluto dai tante tante cose vi incoraggio andare a guardare instagram perché tante cose sono messe in una maniera più goliardica e più divertente forza forza forza